Ciao! Bentornati! Bentornati carissimi amici di Sara e Ale, io sono Ale e lei è Sara, ma questo è abbastanza evidente. Prendiamo in mano le nostre bacchette, mai incrociare i flussi, ma queste lo capiscono solo i papà e le mamme, mai incrociare i flussi. Lei ha la bacchetta di Hermione e ne ha due di Hermione. E ho anche Hermione. E io ho la bacchetta di Harry Potter e ho Harry Potter. Questi sono editi dalla Mattel, credo, ma sono usciti tempo fa. E poi qua c'è la chiavetta. La chiavetta USB che si può trovare in giro. Allora, che cosa facciamo oggi? Oggi vi facciamo vedere, no, mettilo fuori dal tappeto perché abbiamo una cosa grande da farvi vedere. Sempre del mondo Harry Potter. Ma il nostro elfo domestico, a cui non abbiamo ancora regalato un indumento né un calzino, quindi non è libero, ci deve portare un oggetto. Elfo! Elfo! Ecco qui, padrone! Ecco, questo è il nostro elfo domestico. Dov'è la mia calza? Niente calza, la prossima volta. No, non sei libero. Via, via, via. Andare, andare, andare. Questi elfi che vogliono essere liberati. Poverina. È uno zaino di Harry Potter. Che userò? Ispirato, che userai per andare a scuola, però toglieremo questi. Ah, tra parentesi, la mia bacchetta è calamitata. Sì, perché è venuta dalle... mi sembra che era dell'edicola. Dall'edicola. Sì, infatti quando l'attaccavo alla porta d'ingresso, che era un po' di ferro, si attaccava sempre. E quindi qui io posso fare l'ingardium leviosa, perché si solleva. Va bene, ci sono due pallini da quiddici attaccati sulla cerniera. La cerniera è tutta dorata. E se non lo sapevate, se non ve ne siete accorti, nel video delle tazze, quella dove c'è Ron e Harry, questi di dove c'è Harry e Ron sono ispirati a quella della tazza. Assomigliavano molto, stilizzati, semplici, ma anche la chiavetta USB. Anche questa assomiglia molto all'Ermione, che è questa qui, guarda, la sciarpa, è solo più bionda, se no per il resto sarebbe identica. Vediamo un po', abbiamo Ron sulla scopa, c'è Harry Potter con il suo classico simbolo in fronte, Ermione, il nostro elfo domestico. Le occhiali, le impronte, il cappello magico, il cappello, la piuma, della Wingardium Leviosa. Poi c'è il boccino d'oro con la scia. Allora. Ed è tutto blu. È ufficiale Harry Potter. Vi dico anche il prezzo. Ad oggi, allora, tanto noi, non è che pubblicità, noi invitiamo le persone a trovarlo. Ah, è bello morbido. Costa 34 euro e lo trovate, noi l'abbiamo trovato da Toys. C'era lì da Toys, in un angolino vicino alle cose di Harry Potter, c'era anche questo. Quindi, se volete prenderlo, basta andare da Toys. Ed è bello grande. C'è una taschina qua. Di cui facciamo pubblicità senza che ci dia niente, ovviamente. Figurati, no? Perché poi qualcuno dice, no, ma perché parlate di Toys e non di altri? No, parliamo anche di altri negozi quando ci andiamo. Benissimo. All'interno è capiente perché ha questa tasca affrontata e i disegni sono anche all'interno. Qua ci potete mettere la merenda e qua l'acqua e tutti i libri perché è bello grande, quindi ci sta tutto. Esattamente. La scuola è iniziata da pochissimi giorni, però siete ancora in tempo per cambiare lo zainetto. Anche perché tu devi averne due disegni, giusto? Uno che lascia a scuola e che porti lunedì e il venerdì e torna a casa il venerdì e l'altro per tutti i giorni. Sì. Ho impugnato la bacchetta al contrario, scusate. Ma, girala. Magicamente vi salutiamo e vi diamo appuntamento. Al prossimo video. Ciao.